Bentrovati, bentrovati ad un nuovo video tutorial firmato FabioAmbrosi.it Prosegue il corso introduttivo ad Adobe After Effects Nella scorsa lezione abbiamo parlato degli effetti quest'oggi parliamo dei predefiniti Beh, i predefiniti in realtà sono degli effetti ma la cosa bella è che sono degli effetti già pronti all'uso non dobbiamo preoccuparci troppo di settare i vari parametri, inserire keyframe, eccetera eccetera l'effetto è già pronto, basta applicarlo, modificarlo per customizzarlo un pochettino e il gioco è fatto Vedrete che è molto molto semplice, molto potente e anche molto molto divertente Ricordo, questo è un corso introduttivo quindi non affronteremo temi avanzati di After Effects per il momento se vi siete persi le lezioni precedenti recuperatele su questo canale YouTube iscrivetevi se ne avete voglia cercate i video nelle playlist o visitate il sito www.fabioambrosi.it lì troverete anche gli articoli di queste lezioni oltre al corso introduttivo a Premiere Pro che ormai è concluso ma è sempre lì per chi vuole seguirlo Bene, dicevo, parliamo dei predefiniti i predefiniti, come ho detto, sono sostanzialmente dei preset ok? Quindi delle azioni complesse già pronte all'uso Per esempio, immaginiamo di voler muovere questo testo ok? Di animare questo testo Ora, allineiamolo un attimino perché non è perfettamente centrato Ok Dove trovare i predefiniti o preset, che dir si voglia? Sempre nel pannello effetti e predefiniti abbiamo visto nella scorsa lezione come aprire questo pannello se non è presente qui sulla destra come nel mio caso Clicco sopra e ho qui il primo elenco la prima categoria chiamata appunto predefiniti animazione Espando questa categoria ingrandisco così da permettervi di vedere meglio e come potete vedere abbiamo qui tutta una serie di predefiniti distribuiti in varie cartelle Ogni cartella ovviamente è una categoria Per esempio, se volete lavorare con il testo abbiamo la categoria text con al proprio interno altre sottocategorie in base a quello che vogliamo fare con il testo Potremo per esempio applicare effetti di scala potremo per esempio applicare effetti grafici espressioni, sfocature animazioni in ingresso, animazioni in uscita testo 3D, eccetera, eccetera, eccetera effetti organici L'unico modo per capire un effetto cosa fa è testarlo Ora io non sarò qui a spiegarvi ciascuna categoria cosa fa vi consiglio di perdere un po' di tempo con ciascuno di questi predefiniti e imparare un pochettino cosa fa il singolo predefinito in maniera tale che quando vi servirà avrete l'esigenza di fare qualcosa potrete attingere al cassettino della vostra memoria e dire, ah ma c'è quel preset che mi risolve subito il problema Ok? Come si applica un predefinito? Beh, allo stesso modo in cui abbiamo applicato un effetto lo abbiamo visto nella scorsa lezione lo ripeto per applicare un effetto un predefinito basta selezionare il livello su cui vogliamo applicare l'effetto il predefinito trascinare il predefinito sopra il monitor di anteprima e il gioco è fatto in alternativa potete trascinare il predefinito direttamente sul livello della timeline facciamo un esempio questo è un testo pronto all'uso testo di esempio cerco nella categoria text un effetto che può essere simpatico e veloce da visualizzare per esempio andiamo a cercare l'effetto incursione eccolo qua lo trascino sopra al livello della mia timeline e guardiamo cosa accade mando in play in realtà quello che viene fatto qui non è applicare degli effetti ma vengono sfruttati gli animatori del testo non ne abbiamo ancora parlato ne parleremo un pochettino più avanti per creare animazioni complesse proviamo a vedere un altro effetto che cosa fa per esempio l'effetto Newton interessante, il nome è molto interessante vediamo ok chiaro no? cos'è un effetto Newton vediamo per esempio le animazioni queste sono le classiche transizioni vogliamo fare entrare un testo parole a scomparsa vediamo cosa accade ok qui chiaramente è necessaria un po' di personalizzazione dell'effetto per ottenere qualcosa vedete non so nemmeno io con precisione che cosa fa ogni singolo effetto l'unico modo per vedere cosa fa un effetto è testarlo proviamo questo classico effetto a dissolvenza ok siamo stati un po' sfortunati questo qui dovrebbe essere molto carino vediamolo ok le singole lettere appaiono in maniera casuale dicevo queste sono tutte cose che chiaramente possono essere fatte a mano si può fare e lo vedremo come si potrà come si può operare in questo senso però per fare queste cose occorre lavorare con gli animatori del testo visto che ancora non abbiamo affrontato questo argomento possiamo sfruttare i predefiniti per ottenere effetti un pochettino avanzati non solo noi possiamo customizzare questo effetto come fare? guardate nella timeline nella timeline abbiamo il nostro livello testo e vedete qui dei keyframe per espandere tutti gli effetti tutti i keyframe inseriti in un livello è sufficiente premere il tasto U di Udine sulla vostra tastiera e vedete che vengono mostrati in questo caso è soltanto uno tutti i parametri che contengono keyframe per il singolo effetto bene io per esempio diminuendo la distanza tra i singoli keyframe posso accelerare l'ingresso del testo proviamo ok? viceversa distanziando i keyframe posso rallentare l'ingresso del testo perfetto per rimuovere chiaramente il predefinito basta individuare nel livello dove è stato inserito il predefinito rimuoverlo e il gioco è fatto ora qui siamo un po' sfortunati perché il predefinito del testo come si diceva prima è qualcosa che ha a che fare con gli animatori quindi dovremo andare a modificare l'animatore ma facciamo CTRL Z e torniamo al punto di partenza bene ovviamente possiamo costruire anche i nostri predefiniti però è argomento un pochettino più avanzato e lo teniamo per la parte avanzata del corso per il momento mi fermo qui vi ricordo di venire a visitare il mio sito internet www.fabioambrosi.it iscrivetevi a questo canale youtube per non perdere anche i prossimi video cercatemi su facebook c'è la pagina da cliccare la pagina è Fabio Ambrosi mettete un like e teniamoci in contatto grazie al prossimo video ciao